Il comune di Cortona ha deciso di esporre le bandiere a mezz'asta nel palazzo comunale in ricordo dei civili e militari italiani caduti in Afghanistan. La decisione è stata presa recependo un'istanza dei gruppi di maggioranza che ha stabilito che da oggi per tre giorni saranno esposte le bandiere a mezz'asta a sostegno del popolo afgano, quale espressione si legge nella motivazione della vicinanza a tutto il popolo afgano, in modo particolare alle donne, per chiedere al mondo occidentale di non lasciare questa popolazione nelle mani di un regime oscurantista ed irrispettoso dei diritti umani per dire ricordo dei nostri civili e militari caduti in missione in Afghanistan con lo scopo di portare democrazia e rispetto in un popolo dilaniato da anni di regime oscurantista e repressivo. Sul tema interviene anche il sindaco di Cortona, Luciano Meoni. Mi auguro, dice che l'indignazione dei cittadini di fronte a questo dramma umanitario possa smuovere le istituzioni internazionali affinché si arrivi in tempi brevi a mettere in sicurezza la popolazione afghana e garantire i diritti fondamentali.